Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italiano Il principe Carlo è tra i reali più chiacchierati e discussi di sempre Sposato con Camilla Parker Bosè da anni nell'occhio del ciclone I suoi tradimenti, che tanto hanno fatto soffrire l'iconica Lady Diana, considerata la principessa del popolo, non sono stati perdonati dai sudditi che non vedono di buon occhio quello che un giorno diventerà Red Inghilterra Carlo.La regina Elisabetta, che quest'anno festeggia i 70 anni di regno, è la monarca più longeva della storia e il popolo inglese spera che possa esserci ancora lei per tanti anni alla guida della monarchia Il suo primo genito, Carlo, ha sempre creato polemiche per il suo stile di vita libertino A quanto pare, il tradimento con Camilla Parker suscitò, all'epoca, l'ira di Diana che per ripicca tradì il futuro re d'Inghilterra con un altro uomo il quale poi, sarebbe il vero padre del principe Harry Cerchiamo di fare chiarezza su questa misteriosa vicenda.Carlo e Camilla Chi è il vero padre del principe Harry.Da anni si mette in discussione la paternità dei principe e Carlo Tra i corridoi di Buckingham Palace e tra i sudditi inglesi, si mormora che il figlio della regina Elisabetta non sia il papà biologico del principe Harry Anche se il figlio di Lady Diana oggi conduce una vita completamente diversa dagli altri membri della Royal Femini, visto che ha deciso di vivere come un normale cittadino dopo il matrimonio con Meghan Markle, il dubbio su chi sia effettivamente il suo papà biologico ancora tutt'oggi persiste Harry e Meghan.Si crede che il papà di Harry sia tale James Huit, il maestro di equitazione della principessa Diana Nel 1986 Diana e James iniziano una relazione che durerà ben 5 anni Sembra però che i due si conoscessero da prima.James Huit.James e Diana hanno cercato di tenere nascosto questo segreto e, più volte, quando Huit è stato chiamato in causa, ha affermato, per tutelarsi, di aver conosciuto Diana due anni dopo la nascita di Harry Ma questa non è la verità.Al di là di tutto, la somiglianza tra i due è davvero incredibile, stessi capelli rossi, stesso naso e stessa fisionomia James e Harry sembrano davvero padre e figlio.Harry e James.I familiari della compianta Diana hanno cercato di smentire questa voce affermando che Harry assomiglia al lato paterno della famiglia Spencer e che ha alcuni caratteri somatici anche di Carlo Non vi sono dubbi sulla paternità di Carlo, secondo gli Spencer, ma non tutti ne sono convinti Il mistero continua ad alleggiare.Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo ai prossimi video.Addio Ciao